ho rinfrescato 300 grammi di lievito madre andrò ad aggiungere al lievito madre 410 grammi di latte tiepido e degli amaretti dopo aver aggiunto circa 80 grammi di amaretti andrò a mescolare aggiungo 30 grammi di zucchero e mescolo nuovamente nel frattempo gli amaretti si saranno ammorbiditi aggiungo anche del sale 5 grammi di sale unisco a questo composto della farina esattamente incomincio a mettere circa 300 grammi mescolo aggiungo 80 grammi di gocce di cioccolato fondente e mescolo altri 300 grammi di farina 00 e nuovamente mescolo travaso sul piano di lavoro della farina e l'impasto per finire di appunto di impastare renderlo omogeneo ok quando è tutto morbido rimetto nel contenitore copro con la pellicola e lascio almeno cinque ore a lievitare posso anche decidere di fare direttamente i panini posso decidere di fare i panini e preparo mettiamo la farina di preparo e poi li metto direttamente nella teglia che andrà in forno coperti con della pellicola fra circa cinque ore o anche prima dipende da come avviene la levitazione come si sviluppa l'impasto posso infornare dopo aver creato un rotolo taglierò a pezzettini panini piccoli da massimo 50 grammi ho fatto praticamente dei panini allungati adesso li lascio lievitare dopo aver pennellato con del latte tiepido i panini che sono lievitati li metto in forno per circa una decina di minuti a 220 gradi più o meno grazie a tutti